Fischiamaggio, la battuta di Maiello, c'è Scognamiglio ovviamente a presidiare, pallone fuori, messo a terra e calciato da Maita che fa esplodere in San Nicola, l'astronave è decollata, Bari in vantaggio. Ha fatto un gran gol Maita ma non è la prima volta, io l'ho incontrato lo scorso anno e ha questi gol, li fa, li fa e devo dire che c'è voluto un'invenzione per sbloccare questa partita perché la partita era in equilibrio. E' tornato il trenino a Bari, sotto la curva Nord per sbloccare questa partita, serviva una giocata, mamma mia!